Fabrizio Corona ospite del podcast Gurulandi ha affrontato diversi argomenti dalla separazione tra Morata e Alice Campello fino ad alcuni gossip legati alla serie A durante la puntata uno dei conduttori gli ha chiesto di parlare riguardo la serie tv il caso Yara. Corona ha evitato di approfondire la vicenda giudiziaria ma ha rivelato un dettaglio inedito il figlio di Bossetti ha rifiutato di partecipare al grande fratello nonostante un'offerta economica molto alta da parte di Mediaset l'ex re dei paparazzi ha sottolineato come il pubblico sia curioso di sapere che fine abbiano fatto i figli di Bossetti vittime indirette di una vicenda così tragica. Corona ha spiegato che la serie si concentra su Bossetti ma poco si sa su come i suoi figli abbiano affrontato tale situazione vivendo l'etichetta di figli del mostro nonostante la forte pressione mediatica il figlio di Bossetti ha deciso di non partecipare al reality un gesto che Corona ha definito un grande segno di valore. Grazie a tutti.